Salve a tutti ragazzi, ero qui che mi chiedevo che video faccio? Tra poco si chiude la stagione, ad agosto sono tutti in vacanza, devo fare qualcosa di chiusura o comunque qualche altro video, così Rayvolution sta tranquillo e mettiamo un altro contenuto ma non volevo fare contenuti scontati, non volevo seguire il brand del momento anche se vorrei spendere due paroline sulla faccenda The Zapper e quant'altro però proprio da The Zapper partirei, approfondirò in un altro video ma qui parlo del fatto che lui ha trattato i canali di critica come canali parassitari non fanno contenuti in qualche modo, no? cioè se li fanno non sono così a quanto ho capito dignitosi e in generale la critica non è un genere di contenuto ecco, infatti la domanda è quella che avete letto nel video e ve la farò breve la critica è un contenuto? Lo è! ora dici, vabbè, lo dici perché anche tu fai critica in questo canale no, non è per questo, è che ho analizzato molto i canali di critica e dipende come la fai, ci sono canali di critica che fanno una critica banale becera, magari ignorante, magari una critica diluita dall'eccessivo intrattenimento una critica diluita da... non sto pensando a nessuno in particolare, sto facendo degli esempi però la critica in sé, in che senso critica? ci sono vari modi di fare critica quando io mi approccio a criticare un canale, un comportamento, lo faccio a livello sociologico allora è qui che lo youtuber che fa critica può diventare un moderno filosofo qualcuno che veicola un concetto, una morale, esterno a un pensiero profondo e complesso tramite quella che è la società di oggi, è la società di internet, è il mondo virtuale, è i social, è youtube quando faccio dei video su questo canale credo di portare dei contenuti innanzitutto mi piace pensare che la gente passi quei 3, 4, 5, 6 minuti massimo in mia compagnia mi piace pensare che spingo la gente a riflettere le menti un attimino ad aprirsi su certe cose e sostanzialmente questo mi basta per classificare la mia retorica, quello che faccio, i miei argomenti come un contenuto, perché è tutto lì, trarre ed estrapolare da una situazione qualcosa che abbia un senso nel caso di The Zapper, se devo ricondurre la cosa a lui, c'è nel fatto che una persona con quella mole di numeri non dovrebbe dare tutto questo peso a delle critiche per esempio ma in generale quando qualcuno è soggetto a critica si può sempre imparare qualcosa come quando ho parlato di Greta Menchie, come quando ho parlato di Dorian Bea ma lui non ha capito nulla in questo caso perché ha fatto altre stories simili un po' triste, però si può sempre imparare da una situazione come criticare i bambini e i loro show si impara che ogni cosa ha il suo contesto e ogni cosa ha la sua chiave di lettura, il suo pubblico, il suo target quindi la critica è un contenuto, secondo me, si quando porta qualcosa di intelligente spinge a pensare e crea una discussione, un dibattito costruttivo e poi le varie critiche, i vari video di critica rimangono come un archivio penso a tutti i video che ha fatto Dellimello un archivio che ci aiuta a riflettere ogni situazione ormai passata di moda ma raccontata e criticata in un video diventa un modo per riflettere sul passato e si sa che se rifletti sulle cose passate o sugli errori che sono stati fatti sulla piattaforma YouTube in passato puoi capire quelli del futuro e non ripeterli in teoria si spera ma poi non succede spesso, come vi ho citato poc'anzi del mio amico Dorian B, frate! e niente, mi piace imitarlo molto noi ci vediamo al prossimo videone iscrivetevi al canale Revolution commentate, condividete un saluto a Dorian B e a The Zapper buone vacanze io non lo so se farò altri video per questa stagione su Revolution ma non lo so, spero di sì bye